La strategia dell'open house per vendere casa. Ciao, sono Damiano Castellana, agente immobiliare Remax a Milano dal 2010. Oggi voglio parlarvi di una strategia che ha rivoluzionato il nostro modo di fare immobiliare, l'open house. L'open house è un potente sistema di vendita immobiliare che ci permette di coinvogliare tutte le visite di potenziali acquirenti e anche di altri agenti immobiliari in un unico evento, risparmiando tempo e riducendo le scocciature per i venditori. Ma perché dovreste scegliere un open house? Prima di tutto l'open house crea una massima concorrenza tra gli acquirenti e altre agenzie che collaborano con noi. Quando gli acquirenti vedono che ci sono oltre 20, 30, 40 persone interessate allo stesso immobile capiscono che non hanno tanto spazio di negoziazione sul prezzo se l'immobile ovviamente gli interessa acquistarlo. In secondo luogo l'open house accelera la decisione di acquisto e la scelta diventa emotiva e veloce. Spesso subito dopo l'open house abbiamo già la possibilità di raccogliere le offerte di potenziali acquirenti. Infine con l'open house la negoziazione del prezzo diventa vincente. Valutando tutte le offerte insieme nei giorni successivi potrai scegliere quella più vantaggiosa per te. A questo si aggiunge una grande novità e ci porta a parlare di MaxDeal l'innovativo sistema esclusivo di offerte multiple di Remax. MaxDeal facilita la trasparenza, la convenienza e l'equità nella vendita e nell'acquisto di nuovi. Non solo rende il processo di offerte più semplice e veloce ma offre anche una sicurezza e trasparenza grazie alla verifica di ogni offerta da parte di un consulente Remax e le parti coinvolte. Sia che siate venditori o acquirenti utilizzando MaxDeal potrete sperimentare un'esperienza immobiliare più semplice, trasparente e conveniente. Il futuro dell'immobiliare è qui e vi aspetta. Siamo pronti a fare la differenza per voi con la nostra esperienza e le strategie innovative di Remax e MaxDeal. Affidatevi a me e il mio team per il vostro prossimo open house. Non vediamo l'ora di collaborare con voi per realizzare i nostri obiettivi immobiliari. Siamo a vostra disposizione a Milano sempre pronti a fornirvi una consulenza gratuita e senza impegno per massimizzare il valore della vostra proprietà. Non esitate a contattarci. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo.